Un appuntamento ormai tradizionale dell'autunno cosentino, la festa del cioccolato, giunta quest'anno alla sua diciassettesima edizione. L'iniziativa è stata promossa in partnership dall'amministrazione comunale e dalla CNA, la sezione provinciale di Cosenza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Alla cerimonia inaugurale, invece del consueto taglio del nastro, si è proceduto al varo di una dolce lastra di cioccolato. Devo dire che la città in questi anni è molto migliorata da un punto di vista della qualità della vita all'esterno, quindi questo tende a valorizzare tutti gli eventi che vengono poi in qualche modo rifatti ogni anno in modo diverso. Quindi c'è stato un ottimo lavoro dell'assessore Pastori, in questo caso vi ringrazio. Anche quest'anno la manifestazione ha ottenuto grande successo ed ha oltrepassato i confini regionali. Una vetrina quindi d'eccezione per i nostri maestri cioccolatieri e non solo. A partecipare infatti non solo gli artigiani del territorio provinciale, ma anche maestri cioccolatieri giunti da tutta Italia, attirati dalla fama della manifestazione. In particolare 50 sono stati gli espositori provenienti da tutta Italia lungo l'isola pedonale di Corso Mazzini. Decine le iniziative programmate, tra queste lo show cooking dello chef stellato Alessandro Circello, volto noto delle reti Rai, Mediaset e Sky. La festa del cioccolato di Cosenza, in grado di coinvolgere tutta la Calabria e non solo, ha sempre un grande riscontro. A dirlo sono i numeri da capogiro delle edizioni, oltre 180.000 presenze nell'edizione scorsa. Questa città è molto migliorata in questi otto anni, siamo tutti soddisfatti del lavoro fatto, è stato un lavoro di squadra. Sono sicuro che anche questo evento, questa festa del cioccolato di quest'anno avrà un successo anche maggiore rispetto agli altri anni, perché è sempre esponenziale così il successo delle manifestazioni cittadine. Quindi invito tutti a venire a Cosenza, non solo le persone che sono qui nella nostra area urbana e della provincia, ma anche dalle altre province. Cosenza sempre più dimostra di essere una città innovativa, una città attrattiva, una città bella, dove si vive bene, dove si può creare nuove opportunità di ricchezza, soprattutto per i giovani.